In questo problema simile verifica ci viene chiesto di calcolare da quale parte ci vuole il sistema. I dati a disposizione sono la massa del carrello che è di 5 kg, la massa del pesetto che è di 1 kg, l'inclinazione del piano che è di 25 gradi, il coefficiente statico che è di 0,20 e il coefficiente dinamico che è di 0,95. Per prima cosa dobbiamo suddividere la forza peso nei suoi due componenti, che è la forza peso parallela a quella perpendicolare. Per calcolare forza peso parallela c'è da moltiplicare forza peso per il seno di 25 gradi, che è di 20,7 N, mentre per calcolare forza peso perpendicolare c'è da moltiplicare forza peso per il coseno di 25 gradi, che è di 44,4 N. Una volta fatto ci dobbiamo calcolare forza attirito statico massimo per vedere se riesce a contrastare 10,9 N, che è la differenza di forza peso parallela con la forza peso. Per calcolare forza attirito statico massimo dobbiamo moltiplicare il coefficiente statico per la forza normale, che è di 8,9 N. Noi sappiamo che 8,9 N viene tirato dalla parte destra per impedire che il sistema scivola a sinistra. Una volta che abbiamo scoperto che 10,9 N è maggiore 8,9 N, quindi forza attirito statico massimo non riesce a contrastare la forza peso parallela, dobbiamo calcolare forza attirito dinamico, perché il sistema non è più statico ma dinamico. Per calcolarlo dobbiamo moltiplicare il coefficiente dinamico per la forza normale e troviamo 6,7 N, che è forza attirito dinamico. Inoltre un piccolo accorgimento che abbiamo capito che abbiamo sbagliato a scrivere sui dati il coefficiente dinamico, perché abbiamo scritto 0,95 invece era 0,15.